La valorizzazione del comprensorio del Voltigno è stato il tema della conferenza stampa a cui hanno partecipato il sindaco di Villa Celiera Domenico Vespa, il senatore Luciano D'Alfonso e Tommaso Navarra, presidente del Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga dove il comprensorio del Voltigno si estende. La scommessa di un'idea, quella di mettere di fianco alle bellezze della nostra regione il valore della lentezza, ovvero turismo emozionale ed esperienziale. Nei 700.000 ettari di terre alte della regione Abruzzo il turista può riportare la qualità della vita, dell'acqua, delle vedute, del cibo, richiamando la possibilità di un turismo anche di rientro. Dunque una candidatura morale, quella di Villa Celiera, a capitale del turismo verde, intelligente e lento, amplificato anche dal ritorno dell'orso marsicano, avvistato l'8 maggio scorso. Ma la conferenza stampa è stata punzecchiata dal presidente della provincia Zaffiri, che lo ha definito un'iniziativa individualistica, una corsa in solitaria che smentisce la politica del fare rete sbandierata dal PD e soprattutto non tiene conto della convenzione in essere con gli altri sei comuni della Piana del Voltigno, stipulata anni fa proprio per la valorizzazione turistico-commerciale dell'intera area. Fraintendimenti, ma io penso che siano stati piuttosto voluti. Io, ripeto, ho fatto sempre della mia azione amministrativa la condivisione e la partecipazione l'obiettivo principale. Basti ricordare, l'ho ricordato poco fa, che subito dopo l'insediamento del nuovo presidente della provincia, il sottoscritto ha organizzato un tavolo tecnico, a Villa Celiera, dove furono coinvolti tutti i comuni del comprensorio del Voltigno, la stessa provincia e lo stesso parco nazionale di Gran Sasso per cercare di tutti insieme, di mettere insieme le forze e di arrivare a qualche azione di concreto. Quindi c'è tutta la nostra apertura e la nostra disponibilità nei nostri concetti. Io quindi mi sono sentito, ma soprattutto vogliamo veramente arrivare a mettere in campo interventi concreti e quindi ho convocato questa conferenza stampa per ufficializzare come Villa Celiera è stata consacrata capitale del turismo lento, ma non da istituzioni o da autorità. Non è che noi abbiamo superato altre candidature. Questo riconoscimento ci è stato dato dalla gente, dalle persone che abitualmente ogni settimana frequentano i sentieri del Voltigno Transcenter, frequentano le piste da sci, frequentano i nostri locali. Abbiamo questa passione, ma soprattutto che vorremmo trasmettere anche agli altri e diffondere sempre di più. Ecco da dove è uscita la candidatura di Villa Celiera, capitale del turismo lento.